Veloce come da copione Medusa de Mura su Magnifica Idea che prova ad accodarsi in seconda posizione. Lo fa in meno di 100 metri, superando Milton Dante, impetuoso trio che si era sotto. Intanto conduce Medusa mentre Ioris impegnato in terza ruota per superare Milton Dante. 200 iniziali in 14.3, si presenta comunque Ioris dopo 300 metri di gara, perviene su Medusa de Mura. L'impegna al completamento dei 400, tiene strada comunque Ioris su Medusa de Mura. 31 la spesa, anche da leggere comunque perché Ioris ha fatto un tratto di sicuramente la curva in terza corsia. Spendendo Medusa nella sua scia, in corsia esterna c'è Milton Dante, scoperto che avanza, seguito da Naracast e via gli altri. 600 in 45.8, sposta in terza ruota Naracast. Dopo 700 metri di gara, dunque Naracast in terza corsia, cerca di avanzare sulla pariglia Medusa de Mura Milton Dante. Anche Nureci progredisce. In scia Naracast, 1 minuto e 9 decimi, il passaggio agli 800. Latura discreta. Insiste Naracast, va in terza ruota. Si porta su Ioris e l'attacca dopo un chilometro in 1.15.8. Naracast sul punto di passare a traguardo lontanissimo. Ioris invece in difficoltà. A 500 dalla conclusione. Numero 2 Milton Dante, scoperto. In vantaggio, Naracast, un paio di lunghezze a Medusa de Mura. Ioris inghiottito invece dal... Numero 3, Napoli, scoperto. Cala sulla cura conclusiva mentre cerca di andarsene. Naracast inseguita dalla sola Medusa de Mura che ci prova in retta di arrivo. Medusa sposta a centro pista. Va su Naracast che si difende comunque lungo la corda. Nel finale Naracast in grado di sfuggire ampiamente per il raddoppio di Gianvito D'Ambroso al terzo posto. Finisce ancora Ioris, soltanto avvicinato da magnifica idea. 1.14.9, un numero vero e proprio per Naracast con 59.1 per l'ultimo giro. Ancora segno quindi Gianvito D'Ambroso in coppia con Walter Castellani per un doppio di prestigio. Dopo il successo ottenuto con Poliedrica, si ripete in chiusura con Naracast.